qualche giorno fa guardavo il video di un programma giornalistico australiano in cui venivano intervistate persone che vivono una condizione mentale molto particolare quella di ricordare nitidamente tutto quello che era successo nella loro vita passata bastava dire un giorno anche di 20 anni prima e loro erano in grado di dire esattamente quello che era successo sembra una cosa fantastica ed alcuni trovavano questo dono entusiasmante ma io in realtà penso che sia abbastanza triste e che dovremmo fare tesoro di un altro dono che alla stragrande maggioranza delle persone è stato concesso quello di dimenticare già perché chi ricorda tutto ricorda anche le cose tristi della sua vita che come diceva una delle persone intervistate non si riescono in questo modo mai a superare noi desideriamo che dio non si dimentichi mai di noi e per coloro che ci credono se gli è veramente dio sappiamo che questo non lo farà mai ma da un altro lato ci auguriamo che sempre dio faccia finta di dimenticare i nostri peccati ci perdoni e ci consenta di muovere oltre altrimenti facilmente sprofonderemo sotto il peso dei nostri peccati il poter dimenticare ci aiuta a vivere più agevolmente la cosiddetta memoria selettiva rende più agevole il nostro percorso terreno tendiamo a selezionare i ricordi lieti e questo ci aiuta a portare il peso di una esistenza che spesso è complicata a volte diciamolo anche molto difficile lo scrittore ambrogio bazzero chiama i ricordi la tisi dell'anima e spesso essi quando sono negativi e non riusciamo a farne a meno ci portano una inquietudine che non fa bene un altro scrittore mario rigoni stern da un consiglio interessante sui ricordi quando dice i ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo non bisogna agitarla la bottiglia ma a volte anche non volendo contravveniamo a questo consiglio interessante del grande scrittore e la bottiglia viene agitata e certi ricordi riaffiorano ecco perché è bello che la mente ci aiuta dimenticando riparando nell'oblio tanta parte del nostro vissuto che a volte perdiamo per sempre no ricordare sempre tutto non è buono abbiamo bisogno sempre di rigenerarci di ricominciare senza i pesi che abbiamo portato in precedenza questo non significa rinnegare il passato o la tradizione ricordiamo che consideriamo quest'ultima la tradizione ciò che persiste cioè la tradizione non è tutto il passato ma ritorno all'origine è quello che è essenziale quindi anche la tradizione si serve di quel processo selettivo che abbiamo adombrato in precedenza poter dimenticare è una grande grazia che ci rende tutto sopportabile specie in un tempo in cui leggiamo tante cose negative sui social media pensate se dovessimo portare giorno dopo giorno il peso di tutto questo la mente a volte si fissa sulle cose negative sulle paure sulle ansie ed ecco che questo ci sbilancia mentalmente e ci mette fuori equilibrio ci costringe a guardare dentro noi stessi per ritrovarci in modo nuovo possibilmente migliori è bene poter dimenticare non siamo fatti per profondare sotto il peso dei nostri rimorsi grazie a tutti grazie a tutti